Parliamo un po' del Festival di Sanremo, mi hanno chiesto una mia opinione, cosa ne penso, visto che sono già iniziate le solite polemiche, giusto comunque per attirare un po' di attenzione questa polemica, leggevo su, ho visto su qualche post, sui social, dove parlavano di questo balletto che aveva fatto John Travolta, che poi vabbè è chiaro, tutto concordato, intanto i soldi li ha presi. Prima di iniziare una mia disamina sul Festival di Sanremo, vi ricordo che sabato prossimo, ok, sabato prossimo, facciamo l'ultimo raduno di sabato al Barostere La Quercia con, vi aspetto ragazzi, perché poi ci sono problemi familiari, quindi sabato è l'ultimo raduno, sabato prossimo, ok, con Stinco di Maiale e il 17, il 17 febbraio, ok, sabato a mezzogiorno vi aspetto per l'ultimo appuntamento dell'anno al weekend, ok. Allora, sono andato a vedermi i concorrenti del Festival di Sanremo, giusto per capire un po', allora io il Festival di Sanremo non lo guardo, non perché da anni non guardo più televisione, ormai sono anni che non guardo più la televisione, in realtà ho qui per esempio questo schermo ma non ho neanche i telecomandi qua per esempio, ma nel mio lo culo non ho televisione, io non guardo più televisione nella vita. Non ho mai guardato Sanremo, non ho nulla contro chi guarda Sanremo, cioè ragazzi, se uno vuole guardarsi Sanremo, si guardi Sanremo, non lo guardo semplicemente perché il mio genere musicale, la musica che ho sempre ascoltato, i cantanti che io ho sempre seguito non vanno a Sanremo, cioè io mi ricordo che da ragazzo sono andato a vedermi Pink Floyd al vivo, sono andato a Rocky Rio a vedermi Metallica, cioè la mia musica a Sanremo non è che c'è. È vero che andavo a vedere anche i cantanti italiani che poi i tempi andavano anche a Sanremo, mi pare che per esempio a me piacevano tantissimo Augusto da Olio dei Nomadi, so che anche Augusto andò ai tempi, ai tempi forse mi pare quando era giovane lì a Sanremo, però a me piacevano molto i cantatori italiani che non credo che andavano tanto a Sanremo, non so se De Gregori, Dalla, magari ci sono anche andati come ospiti sicuramente, mi piaceva De André, saranno anche andati, però diciamo che ultimamente io non è che li guardavo. Allora io sono andato a vedermi, forse vabbè, sai io sono fermo ancora la musica, io sono ancora fermo a Pink Floyd, sono fermo, mi piace il Rhymes, il Iron Maiden, gli ACDC, Toto, che ne so, i Dara Streets, Bob Dylan, sono andato a vedere anche Bob Dylan dal vivo io quando avevo 16-17 anni. Diciamo che la musica che io ascolto non sono quelli che sono lì, ho provato a vedere i concorrenti che ci sono lì in questo Festival Canoro e devo dire che ho visto i cantanti e a parte tre o quattro, ho visto, non so, la Mannoia, Loredana Bertè, quelli li conosco e sono anche delle bravi cantanti, la Bertè è sempre stata comunque una brava cantante come la Mannoia, però a parte, ho visto che sono i ricchi e i poveri, però a parte quattro o cinque, tutti gli altri non so minimamente chi sono, non so minimamente chi sono, ho visto che c'è il Rama, il Rama l'avevo sentito, una canzone era anche brava a cantare, però tutti quegli altri nomi non so minimamente chi sono, proprio zero, zero, non li conosco, quindi non è che posso giudicarli. Allora, devo dire che il Festival di Sanremo, Festival Popolare, diciamo, secondo me aveva senso fino agli anni 80-90, al Festival di Sanremo comunque sono passati, diciamo, cantanti che famosi, io sono partito che negli anni 60-70 la gente veniva premiata perché aveva una bella voce, si presentava, mi ricordo c'era Claudio Villa, c'era un amico mio che, anzi, devo andare anche a sistemare un dento e che adesso è dentista, tanto gli altri, lui era un amante di Claudio Villa, sapeva tutte le canzoni di Claudio Villa a memoria, ogni tanto partiva anche a scuola le faceva, granada, cantava le canzoni di Claudio Villa e i miei genitori lo guardavano, però era un festival musicale dove si puntava molto di più, diciamo, sulla voce, non tanto diciamo anche magari sul discorso anche del look, ultimamente si presentano sempre un po' con dei look un po' strambi, così un pochettino per tirare attenzione, quello che cantava magari in una canzone anche Pierangelo Bertoli, Pierangelo Bertoli mi pare che andò, a me piaceva tantissimo anche Pierangelo Bertoli, andò, mi pare, più di una volta forse a cantare a Sanremo, era bravo Pierangelo Bertoli, andò a vedere, io mi ricordo che sono andato a vedere anche Pierangelo Bertoli quando canto a Bergamo il teatro Donizetti, mi piaceva tantissimo, che aveva forse vinto il festival di Sanremo con il Tazienda, che cantava Spunta la luna del monte, Spunta la luna dal monte, Spunta la luna, e andrei a vederlo proprio quell'anno lì, che lui vinse, lui era bravo, a me piaceva per esempio, quindi non è che io sono contrario al festival, anche se io poi non l'avevo visto lì al festival perché non lo guardavo, però per esempio Pierangelo Bertoli mi piaceva, non è che anche ai tempi qualche cantante buono c'è sempre andato, qualche bella canzone comunque l'hanno tirata fuori, ultimamente si punta un po', diciamo, la musica è un po', non dico che magari uno mi dirà l'abbè detto se è un boomer, se è un vecchio, cioè a me la musica di oggi dove parlano, dove sono lì quelli che parlano, a me non piacciono, ve lo dico chiaramente, e poi sono cresciuto in un'epoca, grazie a Dio, sono andato a vedere tutti i migliori dal vivo, io sono venuto grande, ragazzi c'erano i Queen, Freddie Mercury, c'è sta gente qui, c'erano gli Heroes del Silenzio, il mio gruppo preferito in assoluto, cantanti spagnoli, gli Heroes, c'erano talmente tanti di cantanti, gli Spandau Balletti, i Duran Duran, gli S.E.D.C., Metallica, Gansi Rosi che sono andato a vedere Torino, che adesso si vanno a vedere Gansi Soli e si fanno ridere, però io li ho visti tutti questi qui ai tempi buoni, c'era Bob Marley che era venuto a San Siro, cioè io ho avuto la fortuna di nascere diciamo un'epoca in cui veramente c'erano dei calibri da 90, cioè c'erano veramente delle band incredibili e la musica veramente qualcosa di spaziale era, cioè Mark Noffer con la sua chitarra, cioè che chitarrista era, io sono arrivato un'epoca un attimino dopo quando c'era Jimmy A, ho visto i Nirvana dal vivo, i Nirvana, cioè allora veramente c'erano delle band incredibili e quindi diciamo che questi che ci sono adesso non mi piacciono, nel senso che comunque non mi piacciono, però non ho nulla, 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 nulla contro chi li vede, magari ho i ragazzi giovani, magari questi qui, i tempi cambiano e come a me ai tempi magari mi piaceva un certo tipo di musica e i genitori miei magari non gli piaceva, adesso a me non piace questo tipo di musica e sono rimasto ai tempi un po' vecchi, non c'è niente da dire, io quella che sono, quella che fanno adesso per me è musichette, cioè non è neanche musica, alcuni sono lì proprio che parlano, quelli lì, la trap, trap, trip, trap, rap, lì, cioè tutte quelle robe lì a me non piacciono, quelli che parlano, a me piace sentire la chitarra, la musica, cioè io sono stato a vedere ai tempi belli proprio quando erano in forma, cioè quando veramente la forma che c'era Angusian, cioè gli ACDC, cioè ragazzi, c'è quella gente che sa suonare, cioè potete dire quello che vuoi, ma i Pink Floyd, gente che fa musica, i tempi buoni quando c'erano anche, cioè gli U2, c'erano tutti quei gruppi lì, i Depeche Mode, i Depeche Mode, che poi i Depeche Mode forse mi pare che andarono anche all'inizio, che erano ospiti, anche qualche trasmissione, erano, sono stati anche ospiti mi pare ai tempi a Canale 5, da me buongiorno, all'inizio, però mica che gruppi sono, all'inizio, all'inizio per farsi conoscere, però, cioè io sono venuto grande con un certo tipo di musica e questa roba qua onestamente non mi piace, non l'ascolto. Va bene, ditemi la vostra opinione se vi piace questa musica moderna o se io sono troppo boomer, sono troppo vecchio.